Noi del progetto Cuvè andremo in piazza San Pietro il 14 giugno e animeremo questa udienza generale di Papa Francesco con le misericordie per noi è un onore perché ecco dopo un anno e mezzo dal nostro inizio è veramente una cosa più unica che rara Insieme a voi Don Simone Imperiosi vero? Sì ecco Don Simone è stato colui che ci ha coinvolto in questo evento in quanto appunto correttore della misericordia toscana La nostra associazione conta 20 elementi indicativamente tra coristi e musicisti per l'occasione di Roma saremo molti di più perché ci è stato chiesto di ampliare il coro di ampliare anche l'organico musicale per cui siamo 45 coristi e una ventina di musicisti Tu hai portato qui insieme alcuni cantori di questo gruppo? Sì c'è Cristiana che è una contralto e Jessica un soprano della nostra associazione Loro fanno parte anche del gruppo originale dei 20 che siamo in pianta stabile attivi all'interno dell'associazione Voi canterete a pochi passi dal Papa Francesco Che emozione? Innanzitutto quando avete saputo la notizia come l'avete accolta? Con molta incredulità Inizialmente fingevo di essere tranquillo e avere sotto controllo la situazione Mi sono emozionato devo dire perché ripeto non me la sarei mai aspettato Da una cosa così piccola si potesse arrivare così lontano Speriamo di portare alto l'onore della nostra associazione e di tutto il Valdarno Grazie